Aumenta l'occupazione nelle imprese agricole del sud. Nel corso dell'anno sono stati assunti più di 8.100 lavoratori. È il commento dell'assessore regionale all'agricoltura Vilma Mazzocco che ha accolto con soddisfazione i dati emersi dall'ultimo rapporto Svimez sull'andamento dell'economia. In Basilicata la crescita occupazionale pare al 5,4%, soprattutto nelle attività di coltivazione e di confezionamento di fragole e di nettarine. Il comparto che da sempre ha sofferto dell'immagine di arretratezza, ha affermato l'assessore Mazzocco, sembra guadagnare consensi, anche se di problemi ce ne sono ancora tanti. Nelle aree interne della regione, infatti, restano le criticità legate agli indebitamenti aziendali e alle calamità naturali. Per dare l'opportunità a tutte le imprese colpite dalle scorse alluvioni di fare domanda per ricevere gli aiuti economici della regione, la Giunta regionale ha approvato la proposta della Mazzocco finalizzata a prorogare fino al prossimo 24 ottobre la scadenza del bando contenuto nella misura 126 inserita nel Programma regionale di sviluppo rurale 2007-2013. Nel piano degli aiuti sono state inserite anche le aziende agricole danneggiate dei comuni di Pomarico, di Craco, di Albano, di Lucania e di Calciano.